la mia macchina è indemoniata no, la stuzza, la stuzza prova a tenere la ferma balla fare la prova, fare la prova ecco la puoi chiudere, la puoi chiudere se la metti io te la foto prova, prova vai no adesso si blocca no la facoltà sia di agire sto coso, vuole rimanere a prova adesso vuole rimanere aperto a tutti ti tosse lascia ora chiudi guarda due la grazie 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 grazie